Buonasera, sono Carmine, detto Minuccio dagli amici, ho 20 anni, sono di Cava dei Tirreni, stasera, la prima sera del talent, ho cantato a te di Giovanotti, mio cantante preferito, e sono nella squadra di Rosario di Mauro, la squadra rossa. Ciao Minuccio, sei felice di essere qui a Trapalco in realtà? L'anno scorso eri tra il pubblico, ho fatto anche un duetto con una cantante, Miriana Marciano, quest'anno è andato un po' per gioco, speriamo però di riuscire ad andare avanti. Ricordiamo che Miriana è arrivata fino in semifinale, forse anche grazie al tuo aiuto, e secondo te questa tua prima performance come è andata Minuccio? Poteva andare meglio, infatti non mi sentivo un po', la base era un po' troppo alta, però se non potevi esprimermi ancora al meglio. Secondo te i giudici ti hanno valutato nel modo giusto, cioè hanno preso il punto che meritavi? Comunque non avendo mai studiato canto, mi aspettavo anche di meno forse. Certo. Hai paura di qualche tuo ospitante in particolare? No, io ho fatto amicizia con i ragazzi della mia squadra, Fabio e Vittorio, che sono due ragazzi fortissimi. e ho paura magari di loro, non di altri, anche se ci sono delle voci femminili molto imponenti. Vediamo. Brava. Grazie a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. E a te che sei, essenzialmente sei, compagna dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.